Diciamo basta all'aumento spropositato delle pigioni, ognuno di noi ha diritto ad un alloggio a pigione moderata. Sosteniamo la nostra iniziativa, pigioni accessibili a tutti. Invito tutti a sostenere l'iniziativa perché abbiamo bisogno di più alloggi a prezzi accessibili che non sottostiano alla speculazione. Sul mercato dell'alloggio abbiamo troppi problemi anche in Ticino. Secondo il Consiglio federale sarebbero i cantoni e i comuni a doversi farsi carico di questo problema. Secondo me invece la Confederazione se la prende troppo comoda. Per questa ragione sostengo l'iniziativa alloggi accessibili.